Ariste de Repole, allenature del Santa Barbara, tutto sommato un grande campionato nonostante i deficit della fine, ma oggi una partita ben giocata dai ragazzi e nel primo tempo avete tenuto testa alta a Casaletto Spartano. Sì, nella prima parte del campionato ci siamo espressi veramente bene, nel giorno di ritorno c'è stato un po' di deficit soprattutto perché i ragazzi non sono stati sempre presenti agli allenamenti, oggi giustamente non potevamo venire a fare la partita con il Casaletto che doveva vincere il campionato e quindi comunque anche se loro nel primo tempo erano tesi e noi siamo riusciti comunque in un paio d'occasione a metterli in difficoltà, nel secondo tempo loro come squadra erano più forti e quindi comunque sono riusciti a portare a casa la partita. Con i cinque campi si cambia una partita rispetto a non poter fare sostituzione? Ecco, oggi come ho detto poc'anzi i ragazzi man mano ci hanno abbandonato perché per il lavoro ovviamente, il caldo, gli infortuni, le espulsioni e oggi siamo arrivati giusto 11 a fare la partita che per noi era ancora valida per i play-off, vincendo potevamo comunque ambire i play-off e qualificarci almeno nei primi cinque. Ci sarà Santa Barbara l'anno prossimo? Sicuramente, sicuramente. Saluto ai telespettatori dell'altro calcio, 105 TV. Arrivederci.